Maurizio Poli, Your Solution. Una domanda è un numero 40 relativo al mio futuro pensionistico. Questa cifra, 40, lavorare attualmente 40 ore settimanali, lavorare per 40 anni per avere forse il 40% della mia pensione, il mio ultimo stipendio come pensione. Quindi prospettive molto concrete e molto difficili quando non avrò più la forza di poter lavorare, di poter provvedere a me, alla mia famiglia, ai miei cari che mi sono intorno. Come posso risolvere questo problema? 40 ore settimanali per 40 anni e forse il 40% dell'ultimo stipendio come pensione. Ci sono soluzioni? Sì, ci sono soluzioni che possono proteggere e guardare con serietà al mio futuro. Ricordandovi sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Chiedeteci come poter trovare queste soluzioni. Il nostro sito www.mauriziopoli.it O numero di telefono 0372-2405 O scrivetevici Info, chiocciola, your-solution.it Ricordatevi, questo numero 40, noi potremo trovare la soluzione con voi per risolverlo. Il nostro sito www.mauriziopoli.it Grazie.